oh finalmente insieme questa italia che ti porta via da me a meno male ho detto dai facciamo una storia carina meno male che c'è l'italia meno male che c'è l'italia vorrei far notare siamo in provincia dell'alessandra e maglia dell'alessandra si forza grigi quello sempre e niente abbiamo un giorno di riposo tutte e due abbiamo portato mezzo su lavori stasera abbiamo portato i ragazzi qua in campagna gli ho preparato un super giro aspetta vedete la ho fatto tutto il buffet di robe da mangiare benedetta parodi dopo aver registrato due puntate della prossima edizione della sua trasmissione in uscita a settembre si è concessa una pausa in campagna con il compagno fabio anche lui ha potuto godersi mezza giornata di riposo i due finalmente riuniti dopo una settimana di separazione per motivi di lavoro hanno condiviso la loro gioia sui social media con alcune stories questo momento di relax ha permesso la coppia di ritrovarsi e di godere della reciproca compagnia in un contesto naturale e sereno lontano dalla frenesia degli impegni professionisti vedo che stanno arrivando i ragazzi ora di mangiare ciao ciao